Di Vincenzo Del Rico Patriota Lucano, morto esule a Torino, è già stato scritto molto. È stato approfondito il suo pensiero, la sua azione politica da parlamentare, nel Museo Centrale del Risorgimento nel Vittoriano di Roma, tra i protagonisti del Risorgimento italiano e tra i cimeli che ne illustrano le tappe, vi è un raffinato cammè ovale in conchiglia che lo raffigura di profilo. Un ulteriore spunto di riflessione sulla sua figura certamente sarà il volume che verrà presentato dopo l'estate. Il progetto è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a potenza nella sede dell'Archivio di Stato. L'iniziativa editoriale è sostenuta dalla Biblioteca di Palazzo San Gervasio, dall'ente morale Camilo Del Rico, dal Consiglio regionale di Basilicata e dal GAL Sviluppo Vulture. Il libro racchiude delle lettere segrete del patriota Lucano. Come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, e il volume vedrà la luce sotto forma di edizione critica del carteggio che uscirà nella collana fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Risorgimento. Tra i documenti anche l'ultima lettera di Del Rico, scritta il giorno prima della sua morte. Il progetto è nato nel 2006, quando l'Archivio della famiglia Del Rico è stato dichiarato di interesse storico dall'allora soprintendente archivistico della Basilicata.